Stop ai motori termici dal 2035, tutto rinviato. L'Europa ha ascoltato gli allarmi d'Italia e Germania che giudicano la misura sbagliata e pericolosa in quanto l'obbligo a passare all'elettrico provocherebbe uno scomolgimento economico con conseguenze sociali pesantissime. In Abruzzo tra l'altro il distretto produttivo della Val di Sangro e non solo rischia di perdere migliaia di posti di lavoro come anche i sindacati hanno più volte denunciato. Sulla questione sentiamo le riflessioni dell'onorevole Alberto Bagnai. Non dobbiamo cantare vittoria troppo presto perché questo provvedimento si inserisce in un solco che è già stato tracciato. La cosa veramente importante è riuscire a inserire nelle norme che si stanno producendo in sede europea un punto di verifica della razionalità del percorso intrapreso dopo le prossime elezioni europee sperando di avere una commissione europea più pragmatica e meno ideologica sul tema ambientale. Comunque una riconversione industriale è necessaria? È indubbio che la conversione all'elettrico è uno dei percorsi però se il tema è ridurre l'inquinamento dobbiamo cominciare a riflettere sul fatto che non c'è solo quella strada e come tutti sanno il motore elettrico ha fra i suoi vantaggi anche quello di avere una semplicità di struttura che però significa anche abbandonare e dover riconvertire tutta una serie di filiere di componentistica e quindi c'è naturalmente bisogno di tempo. La riflessione fatta dai tedeschi per esempio che è quella che sta determinando un rallentamento a nostro avviso assolutamente oltre all'opposizione dell'Italia assolutamente positivo di questa fuga in avanti è quella per esempio di investigare le strade di altri combustibili. Ad esempio l'Italia ha un vantaggio competitivo nei biocombustibili e quindi sarebbe opportuno che anche questo tema venisse portato avanti nelle sedi europee. Naturalmente per avere un'auto elettrica almeno oggi costa troppo un'auto elettrica. Incentivi statali? Ma anche qui si pone un tema interessante perché esattamente come non bisogna evitare che il tema venga posto nei sensi di un'alternativa fra lavoro e ambiente, cioè le due cose devono poter convivere e possono convivere, bisogna anche evitare di far passare l'ambiente e l'ecologia come un bene di lusso, il punto è che allo stato attuale della situazione se domani tutti dovessimo andare in auto elettrica avremmo due alternative, o provare a raddoppiare, triplicare i nostri redditi, ma quello non dipende solo da noi, dipende anche dal mercato del lavoro, o metterci in mano alla Cina.